Sulla permanenza del covid nel periodo di Pasqua in cui la maggioranza si sente più libera sono molto preoccupato e credo che debbano essere preoccupati anche i cittadini non servono delle leggi nazionali in campania in città in particolare l'uso della mascherina è obbligatorio lo ha detto il governatore della campania vincenzo de luca sono molto preoccupato e credo che debbano essere preoccupati più di me i cittadini allora vediamo di capirci qui non c'è bisogno di avere leggi nazionali ordinanze nazionali in campania nell'area metropolitana in particolare l'uso della mascherina è obbligatorio comunque perché abbiamo una tale densità abitativa che per una ragione elementare di prudenza è bene avere l'uso della mascherina voi avete visto che siamo ormai oltre gli 80 mila contagi almeno per la mia attività devo fare lo slalom oramai abbiamo centinaia di positivi intorno a noi ora il dato importante che abbiamo meno ricoveri in terapia intensiva quindi anche chi viene contagiato regge il contagio in maniera accettabile però cominciamo ad avere problemi nei reparti ordinari perché abbiamo pochi ricoveri in terapia intensiva ma nei reparti ordinari noi continuiamo a non scendere e questo complica l'assistenza per i malati non covid questo è il problema che rimane aperto allora per cortesia manteniamo l'uso della mascherina certo ma togliete quando bagnate la sera che ma quando andate a fare la movida manteniamo 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 la mascherina lo dico ai ragazzi alle ragazze quando si entra a scuola quando si esce da scuola è un piccolo sacrificio ma è prezioso per evitare il contagio grazie a tutti